E ragazzi, come va? Io sono Fieri, Niki E io sono Stefano, che si chiama Hawk the Dead E siamo giunti all'episodio finale, curiosissimi di vedere come andrà a finire la storia del nostro polpo papà, marito e tanto altro Esattamente, deve esserci assolutamente un lieto fine perché altrimenti cancelliamo tutti gli altri episodi Ma lo dico! Non accettiamo la storia triste Ci rimango malissimo, già lo scorso episodio per me è stato un colpo al cuore incredibile Esagerata No, guarda che io sono una persona molto sensibile e penso che dei video si noti pure che io sono sensibilissima E ti giuro che mentre lo registravo avevo proprio il magone da quanto mi stava rendendo triste Quindi voglio i lieto fine assolutamente Perché io mi arrabbio poi e distruggo tutto Visto che non abbiamo più i nostri vestiti, ho indossato questo bel tubo Ti piace? Ti dona molto, sì Vero? Diciamo che slancia le tue gambe, ti dona davvero tanto Comunque andiamo alla caffetteria Esattamente, dobbiamo recuperare la nostra famigliola che pensa che ormai siamo spacciati e non esistiamo più Secondo me dovremmo recuperare anche i vestiti, ma vabbè Ecco qua che spacchiamo le maniglie come sempre Allora, verso dove dobbiamo andare? Sai che non è la più pallina Questa, questa qua, questa qua, questa qua E secondo me siamo nella cucina Ma non è da dove siamo usciti? Sto sbagliato, scusatemi Sto per dire la stessa cosa Ecco qua che inizia, Steph Non sto iniziando Anche nell'episodio finale rovina tutto Non sto rovinando nulla Ho soltanto qualche problema tecnico Allora, scusate, buongiorno Visto che non c'è più nessuno posso un attimino Questo qua mi piace, questo grande Questo, te lo vuoi portare via? Sì, sì, andiamo Secondo me non puoi rubare Non è rubare perché siamo dei polpi I polpi non rubano Allora, scusa un attimo, come passiamo lì sotto? Allora, non distruggere il negozio, dai Pensiamo alle cose importanti per una buona volta Doviamo trovare la chiave Ecco qua, ecco qua, ecco qua Lo so già Aspetta, bisogna farla girare Questo è un modo efficace per aprire una cassa Sì La fai ruoteare così Vedi? Ne sono sicura, guarda Un movimento sexy Ok Un movimento sexy Poi alzi Spim Non è lì la chiave Lascia perdere Decisamente non è lì L'ho vista, l'ho vista, l'ho vista Dov'è? Lì sotto, vedi? Ah, eccola Bravissimo Grazie Occhi di falco, torna Attenzione Grazie, grazie Allora, togliamo il pesciolino Eh, però adesso Devi infilare il tentacolino e riuscire Sposto tutto, ma che me frega Ma quindi qua devo aprire, secondo te? Io non vedo osservature Allora, devi andare Devi mettere il tentacolo lì sotto E prendere il lucchetto che lì a fianco a destra Lo vedi? Hai capito? No, è così, è così Ma io non so fare queste cose Vedi? Ecco Che figo, bravissima Grazie, grazie Non ci sarei mai arrivato Eh, lo so, meno male che c'è Fioriniti qua Allora, però scusami, eh La caffetteria Dove accidenti è? È lì Dove ci sono tutti gli scienziati Quindi come facciamo? Secondo me dobbiamo Premere Uh Cos'è sta cosa? No, ok, dà soltanto informazioni Ci serve un diversivo, penso Per quelli scienziati Dici? Sì, sì, ed è qua Lo so io, lo so io Aspetta che mi sono incastrato Scusate Ok Qua dentro c'è un diversivo incredibile Ci serve quel piedi porco lì in alto E ovviamente chi è che l'ha rivisto? Nessuno Ferenichi L'ha visto Stef? Come sempre Allora, tu tanto non hai capito cosa voglio fare, vero? No, non lo so Ecco, e allora sono più figo io Ok Non credo Però non stai dando molto, molto spettacolo Nella tua figaggine Capito? Ecco qua, infatti Vedi quello che dicevo Quello che intendevo Appena lo dico tu lo fai Prendi il secondo scalino Bravo 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 E adesso con questa Concentrati Devi No, no, no Stai su Non cadere, non cadere Non cadere Fai piano Fai piano, fai piano, fai piano Allora, riposiamoci un attimo No Non ce la faremo mai, vero? No, non credo Credo che dobbiamo restare qua per sempre Aspetta Uè Uè Oh yes Ce l'ho fatta Prendilo prima che caschi Allora, adesso ci buttiamo di sotto Ok, con una bella mossa di ballo E apriamo tutto Ok Abbiamo appena spaccato un acquario Forse non ancora del tutto Con delle alghe Che si chiamavano No, non sono delle alghe Questa qua, secondo me, è una parrucca Che io devo indossare No, secondo me sono delle alghe Che vengono chiamate capelli di sirena Guarda Guarda, eh Adesso ti vedono No, 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 no Perché io adesso sono travestito Ok E loro non lo capiscono, vedi? Non l'ha capito nessuno E che sono un polpo Non ha funzionato la media Te l'ho detto Gli occhiali Ci sono gli occhiali lì nel bancone Ma non basteranno mai, dai E tu inizia a metterti tutto quello che trovi Certo che questi li metto volentieri, ok? Guardaci che belli Bellissimi Sembriamo un IP degli anni 70 Fantastici E qua dietro c'è qualcos'altro No, perché non ci fa vedere nulla Ma dovevamo trovare qualcosa per il corpo Tipo una maglietta Sì, è un camice, un camice, un camice Aspetta Eh, mi ero incastrato Ok, ok Però l'ho buttato un po' giù Che mi viene comodo per prenderlo Dai, non mi serve La carta non mi serve Ok, ok Entra nel voglio delle donne Ok Scusa Ciao scienziati Sono una bella scienziata Qual è quella delle donne? Sì, ladies questo Eh, devo andare un attimo al bagno Mi scappa la pipì Ci vediamo dopo Allora Ok Non proprio Abbiamo perso di nuovo tutti i vestiti Ok Era programmato No Oh no Hai sentito No No, 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 no Esatto È giù È tutta colpa di giù Licenziatelo perché è un casinista Attiva un'allarme Ok Oh, bello Aspetta, mi sono incastrato Dobbiamo attivare l'allarme Secondo te come facciamo? Cliccandolo No Dobbiamo mettere fuoco a qualcosa Oh, ancora più bello allora È certo che è figo Però, come? Così? Sta funzionando Sto facendo fumo Sì E infatti Ci abbiamo fatta, ci abbiamo fatta Brava per i nicchi che sa sempre come bruciare le cose Esci dalla sala di ristoro Lì, lì sopra Veloce, veloce, veloce Eh Se no non ce la facciamo Veloce è un parolone, lo sai Aspetta Ok 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 Andata, andata, andata Dove siamo? Non lo so Ah, di nuovo nel bagno Ho capito cosa abbiamo fatto Abbiamo creato un diversivo Esatto Adesso non ci sono più gli scienziati lì E quindi noi possiamo passare indisturbati E andare alla caffetteria Esatto È un piano astutissimo Il nostro polpetto è furbissimo, eh Eh, ha voglia, voglia, voglia Vero, è più furbo di noi Ma molto più Andiamo Più furbo Soprattutto di Steph che si incastra Esatto Ancora Ci prendiamo il suo vestito Esatto Vero Beh, noi facciamo finta di essere un umano vestito da polpo Con un costume molto realistico Ok No No, no, non c'è nessuno Lascia perdere Vai via Vai via Come faccio? Cosa faccio? Non lo so Uh Così? Devi passare da dietro il paravento Secondo me Uh Non c'è nessuno Oh, no, 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 no Vai, 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 vai lì dietro Vai lì dietro No, 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 no Cioè, come dobbiamo fare? Aspetta Col tentacolo che sbucca Esatto Il tentacolino che sbucca Prendimi No, devi stare più vicino Più vicino Ok Ops Oh, che disastro Dai, ma che sfiga però Vai avanti tanto Tanto tu vedi Quindi lo guidiamo noi Sì, ma chi è che pensa che siamo lui? Dai, guarda Ma gioco con quei tentacoli Come fai a pensare che sei un umano? Quindi lascia perdere Sì, ma è ancora peggio Tu lascia perdere Infatti Vedi, adesso lui questo qua se ne accorge di sicuro Perché sta rompendo tutto? Non lo so Ma poi cosa fanno qua di notte questi qua? Spiegami È un po' inquietante Eh, ho notato Fai Oh Per una volta dobbiamo fare casino Che bello Perché facciamo fare casino? Eh, non lo so Ah, ok, posso Posso fare di tutto, guarda Vai, lanciati allora Dai libero sfogo a tutto quello che non hai potuto fare finora Perché altrimenti ti belevano Esatto Finalmente posso spaccare tutto Vai, 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 vai Posso spaccare tutto quello che vedo Oh, scusate Permesso C'è un polpo qua Deve spaccare tutto È la sua missione Salve, salve Fatemi passare Spacco vetri E cadi Oh yes Ok, ottimo Ora basta vengo giù io Ok E quindi noi sicuramente riusciamo a salire lì sopra questa volta Sì, 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 sì Quindi noi Scusi, scusi Esatto, esatto, esatto Vado, 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 vado Vai, veloce, veloce Non ci pensare due volte Ti ho già detto che veloce è un parolone quando si è un polpo, ok? No, ce lo puoi fare Guarda, è stato velocissimo Vai, 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 vai Ok, e adesso? Ah, lì, lì dentro, lì dentro, lì dentro Questa? Sì Infilati là No, infilati Perché no? Non ci arrivano le cose Sei molto più intelligente di me Infilati, guarda Olè E abbiamo riperso il costume Non capite Era polpo Ma perché l'hai legato? Perché hai legato il nostro figlio? T'ammazzo Come potrebbe camminare? Esatto, brava Scarlett Diglielo che noi in realtà non è vero Che siamo così Are you not crazy? Sì che sei pazzo Allora noi ce ne andiamo E l'ora della buonanotte è già passata da un pezzo Non me ne andrete finché non capirete Allora amico mio Non minacciare nostra moglie e i nostri bambini Ok Ok Questa non era la cosa migliore Ah è un polpo È papà Nessun altro se ne era accorta Ecco, brava Brava Stacy Almeno tu hai capito come funziona il mondo I bambini che figata La moglie giustamente Sì, giustamente Questo spiega molte cose Eh sì E le altre però chi te le spiega Perché sai Esatto Le hai tirati dalla tua parte Ma semplicemente ci amano Adesso qualcuno gli tira qualcosa in testa Guarda eh Lo sto già Ok no Quello È un problema No È esploso tutto No No, 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 no Ma perché ci odia così tanto questo qua? È geloso Perché anche lui vorrebbe essere un polpo In realtà non lo è Allora praticamente devo scappare da lui Ma non posso mettere i piedi sul fuoco Perché bruci Perché brucio Quindi devo continuare a camminare in questa tavola Aia Ok Afferra le decorazioni In alto, in alto, in alto, in alto Eh Ma Aiuto Vai, vai Aiuto No, è un disastro Oddio Eh, lo so che è un disastro Vai, corri Tu continui a correre Sì, ma adesso ci sono pure le bucce di banana Capisci? L'ho visto Aia Ecco qua No, rialzati, rialzati Continua a correre Non bruciare Bravo C'è Tommy Ecco perché il bambino era legato comunque Tommy Sì, perché non fa tenerlo fermo È un eroe Crea un percorso per Stacy No, 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 no Mamma mia Ok 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 Cammina con cura Eh, sì Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Corri Ok Ok Bravissima Perfetto Bravissima E adesso come lo sconfiggiamo? Non lo so Tesoro da questa parte Andiamo, 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 andiamo Ok, te li sta tirando Te li sta tirando Lì devi mettere Non so perché le dobbiamo bloccare Ma lo dobbiamo fare Ok Non ho capito il motivo Eh, però Neanche io ho capito il suo piano Vabbè, sì Però facciamo che va bene Se smette anche di tirarceli in testa Ci fa un favore comunque Ok, una Ho preso un bicchiere per sbaglio Ok, presa Dai Forza E' quello che ci tira le padelle Mi hai visto che mi ha tirato una padella in testa Sì, l'ho vista, l'ho vista e l'ho sentita Mamma mia Uh, fatto Adesso che succederà? Allora Sta per esplodere Ah, gli fa qualche getto d'acqua Ok Eh, sì Finalmente Finalmente se ne rimani là Una prigione davvero impenetrabile Allora, calmati No, lo sto abbracciando Perché lo stiamo abbracciando? Ma lo devi No, gli devi da un ceffone Per tutte le creature viventi No, gli devi da un ceffone, dai Mi perdoni Anche per la guerra No, non lo devi perdonare Dai Ma è seria questa discussione? Sì, i bambini sì Nostra moglie non sappiamo se magari vuole il divorzio Però Però ci lascia in pace Ok Ok Mi basta Sai che cos'è? Ma se voi ti liberiamo però Non c'è bisogno È come i classici cattivi Che hanno solo bisogno di un po' d'affetto Per tornare normali Ci vorrà un po' perché mi abito Eh, sì perché Ha molto peggio Ah, ok Che cosa pensava? Spiegami Se lo dici tu però Dimmelo dieci anni prima Vediamo il bambino Se papà è un polpo Come fai a non essere un polpo tu? Eh, esatto Eh Vi abbiamo adottato Giusto? Sì Perché ridono? Assolutamente sì Non lo so Perché ridono? Io volevo una risposta però in effetti Perché loro due non sono dei polpi O mezzi polpi? Perché li abbiamo adottati Ah, su serio? Perché tutti lo vorrebbero sapere Tommy è molto intelligente Tommy è davvero molto intelligente Siamo al cinema Ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito? Sì Sì Guarda Ci sono tutti quelli che abbiamo incontrato Nei market eccetera eccetera Qua al cinema Infatti c'è pure lo chef Eh sì Lo chef che se se ne va? Allora Aspettate Che rovino la situazione Ma no Non devi rovinare la situazione Non devi rovinare la situazione Certo Al cinema ci si comporta bene Perché se lieto fino Dobbiamo festeggiare un po' Uh Aspetta ma C'è la canzone La mia canzone preferita? Ma la beccata proprio quando non canta Non c'è bisogno di cantare Comunque Comunque almeno Abbiamo avuto il nostro lieto fine La nostra famiglia ha accettato Che siamo dei polpi Anche se poi i figli Non l'hanno capito Perché non sono dei polpi Non l'abbiamo capito neanche noi Però dai Possiamo disparare le più Le più incredibili teorie E nei commenti Consolini magari ci Capito Io vado per l'adozione classica Però mi intriga anche gli esperimenti Capito Di DNA Che combinano i polpi Agli umani Sì ma sarebbero nati tipo uno Almeno uno di due metapolpi Invece sono tutti e due umani E magari invece sanno respirare sott'acqua Ma sono umani E magari ancora non lo sanno E magari ancora non lo sanno Hanno dei poteri fantastici Che ancora non sanno di avere Non si sa Non si sa Dai comunque direi di fermarci così Pensavo che sarebbe dovuto un pochettino di più il finale Però come pensavo Il lieto fine è arrivato Perché il nostro polpo ha affrontato lo chef L'ha sconfitto malamente Con gli abbracci Con gli abbracci Io l'avrei sconfitto a pugni Però vabbè è stata la scelta sua Noi lo appoggiamo Beh d'altronde uno che fa balletti bene come lui Non può che non abbracciare Capito E poi è quei tentacolini un po' troppo fini Secondo me non darebbe bei pugni È vero È però Ci vogliono i miei muscoli qua Sì Io sì che so dare bei pugni Assolutamente Un pugno secco e stendi Comunque grazie mille per tutti quelli che hanno seguito Anche questa miniserie Come abbiamo detto già sul video di ShopEkeep ieri Perché è uscito sabato Sì Sta per iniziare una nuova miniserie Però facciamo qualcosa di pazzo Credo che nessuno abbia mai fatto una cosa del genere Ed è già un buon motivo Perché ci svegliamo e abbiamo stile Per non farla Secondo me Anche secondo me Il fatto che nessuno l'ha mai fatto Praticamente la prossima settimana Ancora non abbiamo deciso il giorno Usciranno due video Questi due video saranno due potenziali miniserie Solo una delle due la faremo Che uscirà due volte alla settimana E decideremo quale delle due Quali dei due giochi appunto faremo come miniserie In base alle visualizzazioni E i likes che farà il video Entro 8 giorni Quindi sarà una vera e propria gara Tra i due giochi Una sorta di contest Tipo Vinci la nuova miniserie Esatto Dei two players One console Esattamente Quindi se la deciderete voi Noi vi faremo due possibili tentativi Quindi due giochi diversi E quello che piacerà di più Insomma In base a tutto Alle visualizzazioni Eccetera eccetera Sarà quella che continueremo Molto interessante Esattamente Quindi faremo scegliere a voi Sarà molto divertente Noi abbiamo scelto due giochi Che ci piacciono parecchio Sono entrambi molto molto bellini Quindi vogliamo sapere Semplicemente Quali dei due vi piace di più a voi E quello è il modo più figo Per fare una specie di cosa pazza Che non avevamo mai fatto E che secondo me È divertente Sondaggino Per farci sapere Se vi piace questa idea Visto che ci siamo No? Mi sembra giusto Quindi ci fermiamo così Grazie mille Per chi ha seguito questa miniserie È stata davvero piccola Ma carina Come piacciono a noi Molto divertente Perché i giochi troppo lunghi Non ci piacciono Invece questi concisi Fanno piacere Ci fermiamo così E ci vediamo domani Però è che se vi piace così Se ci piace Diciamo il like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima